questi sono quelli che dovrei mettere negli uova di pasqua uno dovrebbe essere nero e uno dovrebbe essere questo blu ok allora ragazzi iniziamo da vedere l'uovo un po cosa ne è un problema che non c'è neanche il nastro c'è il cordoncino messo fatto con il nostro che riesco a fare un po' Grazie. Grazie. Apertura. Ragazzi, l'apertura perfetta. Qui le due metà perfette. Ora vi faccio vedere cosa c'era dentro questo. Era latte. Dentro c'è un piccolo pop-it a medusa. Che pure mostro non fa neanche un tuo rumore. Va bene, andate a prendere la sorpresa che dobbiamo mettere dentro. Devo andare a mettere questo qui dentro. Finiamo un po'. Prima metto una bustina per non farlo sparcare. Cioccolato. Ecco qui. Si è impacchettato. Tutto perfetto. Allora, scogliere un po' i bordi. Ok. Nei punti dove non ho preso bene. Vado con il coltello lo riscaldo. E vado a fare i bordi. ... ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.